Sono state consegnate in questi giorni le firme raccolte dal Comitato i Custodi dei Boschi della Contea per dire no ad un impianto che avrà sede nei boschi della frazione Chiaveretto, divisa tra i comuni di Anghiari, Subbiano e Arezzo. 1653 le firme raccolte, la richiesta principale è quella di rivedere la scelta del luogo dove edificare l'impianto che ha avuto recentemente il via libera dalle istituzioni preposte. Il sito dovrebbe trattare 150.000 quintali di materiali da scarti come potature e alimentari anche industriali all'interno di un'apposita struttura di prossima costruzione proprio nei boschi della Contea, località immersa nel verde. Una vicenda fortemente osteggiata dalla popolazione residente che chiede agli enti preposti che si fermino a riflettere ancora prima della realizzazione del progetto perché lì dove è pensato stravolgerà un'area boschiva ad oggi intatta. Il comitato che per il ruolo svolto in questa circostanza sente di rappresentare i firmatari della petizione, come detto oltre 1650 persone, mantiene aperta la disponibilità ad un confronto con le amministrazioni comunali coinvolte e gli enti preposti all'approvazione del progetto.